Tra i beneficiari dell'indennità, una tantum prevista dal DL Aiuti, c'è anche il bonus 200 euro. Per riceverlo occorre essere residenti in Italia e aver avuto un reddito non superiore a 35.000 euro nel 2021. Il bonus pensato dal governo è stato introdotto per aiutare e combattere il caro prezzi e spetta sia ai lavoratori, dipendenti autonomi, che ai pensionati. È normale che non abbiano capito bene perché abbiamo assistito a una conferenza stampa del Premier Draghi in cui parlava di automatismo, ci siamo accorti leggendo la legge che questo automatismo di fatto non c'è perché ogni lavoratore dipendente dovrà comunicare comunque al proprio datore di lavoro di non essere pensionato e di non percepire il reddito di cittadinanza che è una delle condizioni per poi vedersi riconosciuto il bonus in busta paga. Per i dipendenti pubblici l'erogazione sarà automatica mentre per quelli privati che riceveranno l'anticipo dal datore di lavoro è necessaria un'autocertificazione con la quale i lavoratori dichiari di aver diritto in quanto il suo reddito non supera i 35.000 euro e di non essere pensionato beneficiario del reddito di cittadinanza categorie a cui 200 euro saranno versati automaticamente dall'Inps. Un bonus che non riguarda le famiglie ma i singoli lavoratori? Sì, riguarda il singolo lavoratore perché il requisito di accesso quindi il reddito di 2.962 euro mensili da non superare in almeno un mese da gennaio ad aprile è un requisito individuale per cui ogni lavoratore potrà verificare il proprio diritto ai 200 euro. Stessa cosa per i pensionati, lì il requisito è un reddito annuo di 35.000 euro da non superare e ogni pensionato in questa situazione avrà in quel caso automaticamente sulla pensione liquidati 200 euro. C'è un limite per presentare la domanda? Ma un limite temporale adesso non c'è perché la legge non prevede scadenze è sicuramente necessario attivarsi subito perché comunque c'è il rischio che altrimenti si arrivi tardi visto che la normativa parla di luglio quale mese in cui il bonus deve essere erogato.